Ancora furti sul territorio comunale di Albanella, nel mirino dei ladri è finita la notte scorsa la scuola alimentare situata nel centro cittadino. Il colpo è stato messo a segno poco dopo le 23 di ieri sera. Sul posto sono stati rinvenuti due sacchi di plastica con all'interno un incende quantitativo di computer che avevano appena trafugato. A quando sembra non avrebbero prelevato altro materiale oltre quello abbandonato in prossimità dell'ingresso dell'edificio. L'allarme è scattato intorno alle 23 e 20. I ladri sono riusciti a penetrare all'interno dell'istituto scolastico dall'accesso situato in via Marconi forzando la porta. Una volta dentro hanno fatto razzia di tutti i computer, almeno una ventina in totale, hanno forzato le varie postazioni riuscendo a prelevare i pc installati nell'aula multimediale situata al secondo livello dell'edificio scolastico. Inoltre sono riusciti a scassinare anche una porta di un'aula situata al pian terreno dove si trova la cassaforte all'interno della quale era custodito altro materiale informatico. A seguito dell'incursione è scattato l'allarme e giunto alla centrale operativa dell'istituto di vigilanza. A quel punto, con l'arrivo della pattuglia, i ladri si sono dati alla fuga lasciando i due bustoni di plastica con la rifurtiva nella scuola e facendo perdere le proprie tracce. Sul posto anche il sindaco Renato Iosca. Per fortuna, afferma il primo cittadino albanillese, il furto è stato sventato. Sarebbe stata per la scuola davvero una grossa perdita che avrebbe compromesso l'attività didattica. I ladri sono scappati dalla porta d'ingresso principale di Via Roma. Sul posto i carabinieri che hanno avviato le indagini ad agire quasi sicuramente almeno una banda composta da tre persone. Al vaglio degli inquirenti, il sistema di videosorveglianza di cui è dotato l'istituto scolastico, dalle immagini potrà emergere qualche elemento utile per risalire alla banda di malviventi.